Ok Ferri inizia, siamo entrambi impostori, benvenuti su Among Us ma siamo velocissimi Possiamo ucciderlo in 10 secondi, ci si muove veramente velocissimi E' una roba veramente incredibile Allora, ho fatto un'emergenza, Ferri mi raccomando devi uccidere tutti alla velocità della luce Quindi dobbiamo essere straveloci? Assolutamente sì Ah, devo beccare qualcuno da solo Ah, mi hanno visto! No! Che succede ragazzi? Che succede ragazzi? Che succede? Nat! Io ho trovato Matteo Ok Mi ha ucciso Matteo a fianco, Nat Io? Davvero? Ma Nat! Bravo Nat! No raga, e lui, vi giuro, non ha ucciso nessuno io Non si giura, non si giura! Allora, posso essere al 95% del sicuro perché poi è scappato come un fulmine però l'ho visto grigio Ok Non sono abituato a vedere i colori così fermo Ragazzi non sono io e Matteo Beh sì Mi è successo ora Aia Aiai aiai Per forza Nat Non lo so ragazzi che devo fare, aiuto Io ho votato Nato Cioè, però boh Non ho ucciso nessuno, però ok Io sono confuso Va bene Io voto ragazzi Mi sono fidato Ragazzi, se non è Nato Ma perché mi hai votato? È lui l'impostore se non è Nato? Se non è Nato, cioè è ovvio Sicuro? Boh Lo scopriamo adesso È troppo vero No Aiai No Marco no No raga ve lo giuro Aiai L'ho ucciso di fronte a Marco e Marco si è confuso Eh, ho immaginato che fosse successo qualcosa del genere Non so come ha fatto a sbagliare Porca miseria Allora Aiai Aiai Peri, devi uccidere la gente però È quello che sto provando a fare Non trovo nessuno, sono tutti troppo veloci, Steph E lì è pieno di gente Dove? Qui? È qua dentro, dobbiamo fare la doppia Ok, arrivo, 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 arrivo Aaaaaa La coppia uccide tutti Non ci posso credere Ma non è possibile Ma lo sapevo No, era Io mi sono confuso con i pantaloni di Steph Che erano grigi Raga, ho ucciso Matte di fronte a Marco perché era troppo veloce e non l'ho visto E ha sbagliato a votare No, scusa Vabbè Raga, Marco è veramente il ministrocio Raga, se sarò l'impostore E Marco morirà, sapete già chi Perfetto Raga, è veramente troppo veloce Ma io non ho visto niente Ho visto solo Ma io non c'ho capito nulla Correvo come un missile Ragazzi, ve lo giuro Steph è stato un missile Io ho visto solo il grigio dei pantaloni Non mi ricordavo che avessi quei pantaloni Ma la game time quant'era? Era 10 secondi Madonna, eh È letale È difficilissimo Per le tasche velocissime Forza, forza, forza Io non lo sopporto più di giocare in questo modo Non si capisce nulla Questa task No, no, no Dai Task, task, task Dai, no No, no, no Mi rifiuto Mi dissocio Cioè mi è capitata quella dove devo fare il memory No Ma ti sembra il momento? No, io quella non la sopporto Io di solito sai cosa succede? E vabbè Oh, emergenza La vede la schifo Dico la verità Quattro Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre No Dai 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 Il cadavere di Nat Ok Come dove? Dove? Prego In storage dove c'erano le foglie Raga Raga Io ho visto palesemente Mark Andarsene dal Dall'aria Sì Conferno Palesemente Conferno Aria Calese Aspettate Due contro Mark C'era insieme a me a Cesca Non ho capito cosa che ha fatto Marco E' arrivato prima Non sono uscito da vent Ma ormai l'hanno votato tutti Raga Non possiamo anche pareggiare Ma dalla vent Confermo Sì Va bene La stanno incendendo in due Eh la stanno incendendo in due Io ho matto E Cesca sono gli assassini Oppure Cioè dai a Mark Una vent Raga palese No Magari abbiamo sbagliato tutto No No Sono Aspettate Aspettate Io ve lo giuro qua però Non sono uscito mai dalla vent Ve lo giuro qua Dai che vinciamo contro gli impostori Bella informazione comunque Task 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 Eh Allora Ma dici che hanno un min No come fanno ad aver ventito in due No secondo me è che è tutto velocissimo Fere Quindi ti confondi Eh ma in due Ok ho finito questa task È bruttissima Forza 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 Eh vabbè ma non possono essere entrambi impostori E uno l'abbiamo beccato Eh infatti È quello però che mi sta Facendo un po' strano Non lo so Non lo so Giochiamocela bene che lo mettiamo l'ultimo C'era Mike vicino a me ma ha fatto una porra incredibile Dai che la vinciamo Fere Dai Vai in tutte le task È velocissima Non riesco a muovere Alla velocità della luce Fere Non riesco a muovere Portiamoci a casa una vittoria Allora Qua admin Ok Usiamo la card Ok Troppo veloce Fere A agia Sere Ok Farà di unutile Vi dico Fere era buona perché è morta Sì L'ho solo riportato C'è l'ho solo ritrovata Non ho visto nientate E c'era da quelle parti No non ho visto nessuno Ho fatto solo le mie task Le ho finite Io stavo fino deriva Pasqua ad admin Quindi Sono passata da reattore Quattro Pacino al reattore c'era mcshosh poi sono scappato adesso mi trovo in navigation ma ci ha detto che ha riportato il cadavere in il reattore quindi dovrebbe essere un self report dietro da prima quindi con questo self report entrambi voglio dire fantasmi mi raccomando continuate con le tasche che stiamo andando velocissimi mettiamo pressione all'impostore che la mia povera fede è morta come sempre sempre rimane però soltanto un impostore quindi se torno a fare quella della card però posso comunque aiutarvi a vincere fai tutte le tasche faccio tutto e faccio quella che stavo facendo prima di morire guarda allora ecco la card dai troppo veloce un po più lenta perfetto no 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 marci ma così basta ma devi finire una tasca con che velocità io ho trovato nino in admin di fianco a stef però penso che stef stesse facendo la card quindi può essere qualcuno sia passato di lì sì bene non sarebbe stato molto intelligente da parte mia e infatti non l'ho visto perché mi ha fatto marci ok allora io ho visto marci mi sono spaventato però se era lì per con già nel corpo non ha senso io sono entrato e ho riportato subito non stai parlando comunque mike stava un pochino discutendo con giampi e abbiamo ragazzi è vero troppo qui no no c'ho troppo qui per fa una mossa del genere però anzi però guarda c'ho un dubbio prima stef aveva detto che l'ha visto dalla botola non lo so stef no l'ha detto matte e io ho detto di conseguenza stef buzza e poi abbiamo beccato marche cosa avrei votato l'impostore vabbè ma dobbiamo votare qualcuno andiamo avanti no finiamo le tasche e vinciamo qui c'è l'impostore è obbligato a fare una schifezza secondo me ora grazie lore comunque prego prego ah non ho idea di chi sia non lo so non ci capisco nulla per è troppo veloce non lo so non è che non lo so lo so ma non ti posso dire quindi io non posso più far tasche e guardo le telecamere non può pensare alle telecamere l'assassino quindi viene ad ammazzarmi marci è entrato da me però magari si far carico ok è stato bravo da dadmin allora è stato molto brava dadmin perché mi ha c'è ha ucciso una persona mentre facevo la task che mossa che mossa ha preghiant ha vinto camere chi è morto no proprio stef è morto raga perché non ho provisto nessuno io stavo andando in electrical e non ho visto niente se non lorenzo correva dietro però sono d'accordo con cesca secondo me non è cesca allora io ho seguito favi dietro ero dietro di lui e lui è passato da caffetteria effettivamente quindi allora posso fare la mia cosa proprio cioè la mia goal proprio al buio perché perché ero andato in admin però con la velocità così veloce è impossibile in pratica capire chi si sposta e allora se cesca e farvi si si possono scaggionare io ho visto il buon vecchio marci e a inizio game è rimasto fermo come me però io le tasche l'ho finite marci non lo so io stavo girando a caso e basta chi era chi era chi era marci fuori va bene tutto ma io non so quello dove mi avete visto uscire dalle vente andiamo più che altro ragamare è stato bravissimo comunque mi ha fatto esatto e non ti racconto di niente nella card jump in una cosa c'è rischiato tanto è perché se li hai un voto ma che fastidio ok allora se lo sei di nuovo ti denuncia non lo sono sono sincera dai sincera non mi fiderò mai c'è marci che mi stai seguendo ho paura se voglio è lui te lo dico non puoi dirmene queste cose vabbè non sono morta sto scherzando ma non puoi dirle lo stesso 6 9 7 7 9 no io ho paura di andare a fare l'emergenza cioè poi mi succede sempre qualcosa quando vado a fare l'emergenza cos'è successo ok non sono morta subito anch'io ho pensato la stessa cosa sono morta io che bello ragazzi posso fare un piccolo disclaimer poi parlate di quello che vuoi te non sono successo sì che ho chiamato io fere mi ha seguito tutto il round no tu mi stavi seguendo no non si va dietro di voi tipo vabbè vabbè marci vabbè raga facciamo parlare marci vai allora ho trovato matteo in navigation stavano lì a fare la missione quella davanti all'ingresso di di navigation però visto il cadavere lì vicino e niente c'era stef che era dietro di me però secondo me non è lui perché arrivava proprio non ho capito a navigation e c'era navigation matteo semplicemente confermo io praticamente stavo guardando marci un pochino per capire se stava facendo davvero le tasche e ho visto il corpo e l'ha segnalato lui non è più che altro jumpy non abbiamo idea di dove è morto nulla già è vero che è morto come vero ragazzi se volete ve lo dico sì ci servirebbe non si fa metagaming vai schifo 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 ah troppo tosta così eh o troviamo proprio uno che muore muoviamoci assieme esatto dai seguimi 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 vai vieni 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 stai se mi ammazzi non te lo perdonerò mai te lo giuro eh vieni vieni seguimi forza sì non ne avrei bisogno tanto è talmente facile vincere con tre fere sì vabbè non lo so mi metti ok andiamo 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 perché vieni su vieni su se c'è favien at no nessun corpo peccato perché se noi riusciamo a beccare un corpo e reportare e beccare la gente adesso non perdiamo l'unico modo ok siamo tutti troppo vicini fere mi ha chiuso no mi hanno chiuso sono chiusa con favie ok emergency vediamo se qualcuno sa cosa allora io ho chiamato perché almeno lì si resetta il timer a 45 secondi ok ci sta ok volo e io posso dire che c'è mi fido abbastanza di marci perché era il primo che è arrivato al reattore e si è stoppato effettivamente il io voglio dire una cosa quando marcia ha segnalato e sono state chiuse le porte e da noi dalle telecamere quindi giri in telecamere ma guardava le telecamere quindi non poteva essere la tasca emergency lui stava guardando le telecamere vero e si è rimasta chiusa lì dentro da una parte io ho capito la idea di chi possa essere ma non mi spiega ma devi dirlo nata e cesca no sì no ma io c'è scala incontrati un sacco di volte frate e io ero in navigation non farà la tasca a me ha buttato nato ma io ragazzi non c'è niente io giuro ricordatevi di chiamare l'emergenza fra circa 30 secondi ok la strategia ormai è chiara ragazzi cerchiamo di chiamare l'emergenza costantemente e nel mentre far le tasche ecco bene hanno già chiuso delle porte ho paura dai aprite vogliono farci perdere tempo faccio la tasca degli asteroi perfetto ok ok fare e torna a caffetteria chiama l'emergency appena finiscono la tasca e questa non finisce in fretta io sto facendo il download rischio di morire sono da solo chiamo aspetta chiama secondo me adesso devi chiamare ok ok qualcuno ha qualche successo è successo ma raga ve lo giuro non sono io stavo facendo la task giù quella dei fili in electrical guardate non lo sapremo mai ragazzi ciao raga che disastro a me un po' ha fatto sentire in colpa povera cesca oh porca miseria io ho un brutto presentimento su mike però devo richiamare l'emergenza tra poco allora vado io non ho idea porca miseria buonasera ragazzi andiamo avanti così allora io inizio avere un po' di sospetti su mike bello butto così gratis ma perché su mike però allora dimmi il tuo sospetto questo è stato tutto il tempo che ho fare l'accusa su cesca secca e che l'ho fatta io però è vero io comunque ho incontrato parecchio mike l'ha fatta successivamente e poi ma anche controllare le telecamere però posso dire invece perché effettivamente sto game di insomma abbassare il cooldown della della kill è intelligente no però c'è die e die e secondo me può essere pure che l'assassino sta facendo l'emergency così tira fuori la gente senza senza quindi chi me lo dice che non siete marci ha riportato il corpo e ci sta vide però lui mi ha visto dove arrivavo era dietro di me era dietro di me io ti tengo d'occhio io ho molta paura aspetta aspetta che ti becco l'ore no l'ore e l'ora innocente dici altrimenti c'è una coincidenza furi di testa l'ora innocente però dobbiamo io non posso più chiamare l'ergency quindi ho la chiamato alcun altro comunque adesso che c'è l'ossigeno non possiamo chiamare l'emergenza infatti no sono andato a quella del reattore mi sono confuso io sto facendo un'altra task vabbè mi metto a fare la mia task l'ho fatta aiuto complimenti 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 ho pure difeso Ciao